L'Italia sta attraversando un momento di grande difficoltà, ma noi tutti insieme non molliamo queste popolazioni, questi comuni. Abbiamo messo oggi i primi 40 milioni, basteranno soltanto iniziare, dobbiamo riaprire a Camerino l'università perché è fondamentale, però questo non è il momento delle polemiche, tutti insieme a lavorare perché l'Italia finalmente possa mettersi in sicurezza per il futuro e possa far ripartire queste popolazioni adesso.